Massimiliano, 40 anni dalla provincia di Angona, prima di Arbalife ero sempre stanco, senza energia e non recuperavo dopo lo sport, non bevo un goccio d'acqua, disastro. Usi prodotti da 12 anni, il risultato è stato più 8 kg di massa muscolare, più energia e cosa fondamentale è recupero mai dopo lo sport. Un applauso a Massimiliano.